L'impegno di Italia e Unione Europea per la Pace è sottolineato da Draghi nel colloquio alla Casa Bianca con il Presidente degli Stati Uniti Biden. Fallito il tentativo di Putin di dividerci, sottolinea il Premier italiano. Dall'Omane il Ministro degli Esteri Lavrov esclude che la Russia intenda allargare il conflitto in Europa. L'obiettivo, dice, è quello di mettere fine a un ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Stop a un terzo del flusso di gas dalla Russia all'Europa attraverso l'Ucraina sul blocco reciproco scambio di accuse tra i due paesi. Per le autorità di Kiev non è possibile garantire il transito del gas nelle zone occupate militarmente dai russi. In Italia forniture regolari fa sapere la Snam, il gestore della rete nel nostro paese, e torna a salire sui mercati il prezzo del gas. Sul campo il settantasettesimo giorno di conflitto conferma la controffensiva dei militari ucraini a Kharkiv, annunciata dal Presidente Zelensky, che avrebbe riportato sotto il controllo di Kiev sei cittadine. Mosca ha dichiarato di aver colpito 93 obiettivi Neganotte, uccidendo 280 militari. A Mariupol, sempre più vicino all'assalto finale all'acciaieria, questa mattina Caterina e Giulia, mogli di due uomini del reggimento Azov, asserragliati nell'impianto, sono state ricevute in udienza da Papa Francesco. È leader di pace, solo lei può aiutare i nostri mariti e soldati. Il 19 maggio è stata fissata l'informativa di Mario Draghi alle camere in cui riferirà dell'incontro con Biden. Dallega il 5 Stelle apprezzamento per la linea del Premier sulla pace. Al Senato sciolta la Commissione esteri per far decadere il Presidente Petrocelli, Movimento 5 Stelle, al centro delle polemiche per la sua posizione filorussa. Entro dopodomani saranno nominati i nuovi componenti della Commissione. Una popolare giornalista dell'emittente radio televisiva araba, Al Jazeera, è rimasta uccisa questa mattina in uno scontro a fuoco durante un raid dell'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. La reporter è stata colpita da un proiettile al volto. Il network del Qatar accusa uccisa a sangue freddo dalle forze israeliane. Stessa accusa arriva dal Presidente palestinese Abu Mazen, ma il Premier israeliano Bennett replica non ci sono prove e annuncia l'apertura di un'inchiesta. Dal tennis al calcio, la lunga giornata dello sport a Roma, cominciata al Foro Italico questa mattina, si concluderà allo Stadio Olimpico dove andrà in scena la sfida tra Inter e Juventus, che vale la Coppa Italia, sulla terra rossa degli internazionali, invece l'attesa per il derby italiano tra Fognini e Sinner, che per la prima volta scendono in campo da avversari. Una buona giornata dal telegiornale della SET, una giornata importante sotto diversi aspetti al campo. Arriveremo con il racconto della nostra inviata. Ci sono notizie sulla conferma della controffensiva da parte ucraina, una giornata importante anche per quel nodo legato alla fornitura di gas, altro tema dal quale si può ricominciare per raccontare il 77esimo giorno di conflitto. che ci riporta però soprattutto al canale diplomatico, quello che seppur con uno spiraglio resta aperto, veniamo dal giorno, quello appena passato di confronto tra Draghi e Presidente americano Biden, ma soprattutto le più fresche sono le parole del ministro russo Lavrov, che chiarisce, non è una guerra alla nostra contro l'Europa, ma non vogliamo più un mondo dominato dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Cominciamo dunque da qui. I contatti ai negoziati tra Russia ed Ucraina vanno avanti. L'annuncio di stamattina della portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova tuttavia non cambia la sostanza. La diplomazia fatica tremendamente a trovare uno spiraglio utile e non riesce a scalfire il muro contro muro che si è creato tra Russia, Ucraina e Occidente. A riprova arrivano le parole taglienti di Lavrov in visita in Oman. Ci aspettiamo che la conclusione dell'operazione della Russia in Ucraina metta fine alla promozione da parte dell'Occidente di un mondo unipolare dominato dagli Stati Uniti. Mosca, aggiunge, non vuole la guerra in Europa, ma viceversa sono i paesi occidentali, a dichiarare costantemente che Mosca va sconfitta. Lavrov parla anche del pericolo imminente di una crisi alimentare, naturalmente in colpa all'Ucraina e le sanzioni occidentali. Kiev, dice, rifiuta la cooperazione che favorirebbe la partenza delle navi cariche di grano e cereali attualmente bloccate nei porti. Quanto al gas, aggiunge Lavrov, lo venderemo ad altri, mentre l'Occidente pagherà di più. Poco fa il portavoce del Kremlin, Peskov, ha precisato che Putin non ha alcuna intenzione di dichiarare la legge marziale in Russia durante l'operazione speciale in Ucraina. Putin, che ha scritto al capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, dicendosi fiducioso della vittoria finale. Muro contro muro, si diceva, confermato dall'intervento del premier polacco sul Daily Telegraph. Vladimir Putin è più pericoloso di Hitler o di Stalin, perché ha a disposizione armi più letali e può ricorrere ad Internet per diffondere la sua propaganda. Per questo bisogna deputinizzare il mondo, scrive Moraviecki. Sulla stessa linea il ministro degli esteri lituano, che ieri sera ha evocato la rimozione di Putin e dell'intero suo regime. Nel frattempo negli Stati Uniti la Camera ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto da 40 miliardi di dollari per gli aiuti militari, economici e umanitari all'Ucraina. La misura era stata caldeggiata da Biden, che ieri ha incontrato Draghi. I due hanno ribadito che Italia, Europa e Stati Uniti sono più unite che mai e se la Russia ha pensato di riuscire a dividerla, ha fallito, ha spiegato Draghi. Dunque pieno sostegno all'Ucraina e alla sua autodifesa, ma priorità anche ai tentativi per far finire i massacri e ottenere un cessato il fuoco. La pace, alla fine, ha sottolineato Draghi nel corso del faccia a faccia alla Casa Bianca, dovrà essere quella che vorranno gli ucraini. Allora, naturalmente dicevamo che ci sono tanti aspetti di questo conflitto e anche tante conseguenze. Vi abbiamo parlato a più riprese della crisi energetica e soprattutto del transito del gas. Oggi è una giornata importante perché Kiev ha annunciato ufficialmente lo stop di una parte di questi flussi che passano dalla Ucraina, arrivano dalla Russia, sono territori occupati, dice Kiev. E dunque è impossibile, c'è un rimpallo di responsabilità anche sotto questo aspetto e anche conseguenze a medio e lungo termine. Proviamo a fare chiarezza. Da questa mattina l'Ucraina ha chiuso i rubinetti del gasdotto che dalla Russia trasporta un terzo del gas totale verso l'Europa. Una decisione presa dall'operatore ucraino che gestisce la rete di interconnessione Naftogaz. In una nota al colosso russo Gazprom, la società ha comunicato di non essere più responsabile del trasporto in quei territori che attualmente si trovano sotto occupazione militare russa. Il riferimento è al gas che passa attraverso il valico di Sokrav-Ninka, che si trova al confine tra i due paesi. L'occupazione, motivo all'operatore ucraino, ha messo in pericolo la stabilità e la sicurezza dell'intero sistema di trasporto del gas ucraino. Da qua la richiesta Gazprom di deviare il passaggio del gas attraverso un altro punto di interconnessione che si trova nel territorio controllato dall'Ucraina. Secca la risposta di Gazprom. Non è tecnicamente possibile trasferire i flussi all'Ucraina verso un nuovo punto d'ingresso. Il colosso russo rispetterà tutti gli obblighi nei confronti dell'Europa, come ribadito anche dal portavoce del cremlino Dmitry Peskov. Azioni e reazioni che testimoniano come lo scontro tra Kiev e Mosca passi sempre più dal gas. A marzo, nonostante la guerra, le consegne russe di metano attraverso l'Ucraina hanno raggiunto i 110 milioni di metri cubi al giorno, come da obblighi contrattuali. Ma ora il flusso di gas e anche quello dei soldi verso la Russia rischia di rallentare. La chiusura dei rubinetti ha influenzato il prezzo del gas, sempre volatile, ma dopo aver superato la soglia dei 100, ora viaggia intorno ai 98 euro al megawattora. Ma la decisione di chiudere il tubo ucraino non ha avuto finora ricadute. In Italia, nessun rallentamento nel sistema italiano, secondo i dati pubblicati da SNAM, la società italiana che si occupa di stoccaggio e del trasporto del gas. Al momento i flussi a tervisio sono in diminuzione rispetto a ieri, ma sono compensati dall'afflusso dell'interconnessione delle reti e dalle varie fonti di importazione. Il sistema dunque è bilanciato e la domanda è soddisfatta. Adesso proviamo a fare il punto sulla situazione sul campo. Ci sono segnali di successo della controffensiva ucraina, soprattutto nella zona di Kharkiv, e comunque, soprattutto ascoltando le fonti che arrivano da Kiev, gli occhi del mondo restano sull'acciaieria di Mariupol, quel che succede anche sotto l'acciaieria, ma soprattutto ci sono diversi fronti da aggiornare. Lo facciamo, come sempre, in diretta con la nostra inviata. Buongiorno Paola Mascioli, allora aggiornaci. Buongiorno da Odessa, dove questa mattina sono tornate le sirene, non si sentivano da quasi 24 ore, non c'erano stati allarmi particolari, come due giorni fa, quando nella sera ci sono stati bombardamenti molto pesanti su diverse zone, sia in città che fuori. Questa mattina si sono sentite, dicevo di nuovo, le sirene, e probabilmente, perché ancora non è chiaro, dalle immagini che sono arrivate sulle chat della città, se si sia trattato di un drone o di un missile intercettato dalla contraerea. Fatto sta che la contraerea ha intercettato qualcosa per ben due volte e si è anche, diciamo, si ne sono anche un po' vantati, dicendo stiamo lavorando e proteggendo la città, cosa che non era successa due sere fa, quando ben sette missili avevano colpito due target, sia in città che fuori zona. C'è un altro attacco che è arrivato invece nel sud, nel centro sud, dopo il ponte Zatocca, che è stato ieri nuovamente colpito. Lì invece è stata, per colpire una postazione antiaerea, è stata distrutta una parte della centrale elettrica locale, quindi le autorità della regione hanno fatto sapere che questa zona resterà senza luce per diversi giorni. Questa è la situazione sul campo, apparentemente sembra tranquilla, ma ormai abbiamo imparato che da un momento all'altro può scatenarsi qualsiasi cosa, perché a largo della città ci sono le navi russe e sono cariche di missili pronte a lanciarli in questa direzione, non solo sulla città, ma soprattutto su tutta la regione. Questo è quanto vi possiamo dire da qui stamattina. Abbiamo provato a cercare di raggiungere la zona del ponte, ma è totalmente chiusa. Se la scorsa settimana eravamo riusciti ad avvicinarci, oggi abbiamo visto che a 50 chilometri dal ponte i giornalisti non passano. Proprio siamo rimasti fermi un'ora e poi ci hanno mandato indietro. Questo vuol dire che da quella parte si stanno rafforzando le difese. Sappiamo inoltre che neanche un altro posto ci è stato consentito visitare ed è quello dell'albergo sulla costa colpito dai missili russi e dove qualcuno insinua ci fossero militari, addirittura mercenari stranieri, ma non ce n'è alcuna prova e nessuno è stato trovato sotto quelle macerie. Questo è quanto vi devo da Odessa e poi c'è da raccontare invece tutto quello che succede nel resto del paese dove ci sono combattimenti in corso. Vediamo il servizio. Queste sono immagini del fronte di Kharkiv da qualche ora quasi completamente riconquistato dopo giorni di controoffensiva ucraina nei confronti dell'armata di Mosca. Sono immagini di guerra tra soldati ma anche di indiscriminati attacchi russi alle colonne di civili in fuga dalle zone più pericolose. Nelle ultime ore, come confermato anche dal presidente Zelensky, almeno cinque villaggi della regione sono nuovamente sotto controllo delle forze di Kiev. Arrivano poi altre immagini dei soldati russi morti in battaglia e lasciati sul campo dai loro commilitoni in fuga dal fronte di Kharkiv. Abbandonati in strada, in aperta campagna, in case, discariche e vagoni di treno, i successi ucraini di queste ultime ore confermano l'arrivo di aiuti militari occidentali di livello superiore rispetto agli inizi quando gli Stati Uniti avevano già rifornito di armi le truppe di Zelensky. Ora, fuori dall'oblast di Kharkiv, i russi in fuga o già posizionati da altre parti, insistono con l'offensiva orientale che i generali di Putin avevano messo in conto di concludere da giorni. Nelle ultime ore, sul fronte di confine della regione russa di Bergoro, Mosca sta schierando 20 unità tattiche mentre gli scontri più intensi stamattina sono descritti a Slobojansky e ai confini con Danesk. E c'è sempre guerra anche intorno a Izium, snodo strategico verso sud per l'armata russa. Scontri intensi segnalati anche più a nord dalle guardie di frontiera ucraina, in particolare a Cerniv e Sumy. Anche dal mare arrivano notizie dall'isola dei Serpenti, dove Kiev avrebbe colpito contraeree russe e navi da rifornimento sulla terraferma e di poco fa la notizia di un attacco russo verso Luhansk, colpiti una scuola per bambini disabili ed un gasdotto. Secondo Mosca, negli ultimi tre giorni le forze armate hanno portato a termine 2.154 attacchi, inclusi i 25 di Odessa degli ultimi tre giorni. Nella notte invece sarebbero stati 59 gli attacchi su postazioni militari ucraine e 280 i soldati di Kiev uccisi. E poi ci sono Mariupol e Lazovstal da giorni oramai ad assediare i soldati ucraini e forse ancora un centinaio di civili al fianco delle truppe regolari di Mosca ci sono i filorussi del Danesk del battaglione Vostok. A comandarlo c'è Alexander Kodakovsky che afferma gli uomini là dentro sono sempre più impazienti, nervosi, perché le loro possibilità di resistere diventano sempre più esigue. Le loro azioni di queste ore sono azioni disperate di uomini disperati, esausti sia fisicamente che mentalmente. Ilia Samoylenko, è uno dei capi del reggimento Azov, sembra confermare la visione del generale Kodakovsky e dice abbiamo molti feriti, abbiamo subito molte perdite, ogni giorno oramai può essere l'ultimo per noi, abbiamo poche risorse a questo punto e in ogni caso quel che succederà per noi significherà morire. Dunque grazie, grazie a Paola Mascioli per il suo racconto, naturalmente l'appuntamento con te e per i nostri telespettatori alle 17 con lo speciale condotto dal nostro direttore Enrico Mentana. Buon lavoro a te, senza dubbio è una giornata in cui le immagini forti arrivano anche da Roma dove Papa Francesco al termine dell'udienza generale ha scelto di incontrare alcune delle donne, le compagnie, le mogli di quei battaglieri di Azov di cui vi abbiamo parlato, il fulcro è ancora quello della resistenza estrema di Mariupol nell'acciaieria e questo è stato un incontro particolarmente significativo sotto diversi aspetti. Catarina e Giulia oggi erano tra i fedeli a Piazza San Pietro invitate dal pontefice all'udienza generale avevano scritto a Papa Francesco una lettera disperata chiedevano una preghiera e un aiuto per salvare i loro mariti uomini del battaglione Azov asserragliati da quasi 80 giorni nei sotterranei dell'acciaieria Azov-Staldi-Mariupol l'ultimo bastione di resistenza che impedisce a Putin di dichiarare la conquista della città chiedevano corridoi umanitari per farli uscire vivi dalla fabbrica non hanno cibo, acqua, medicine hanno raccontato ogni giorno muoiono uno o due soldati feriti ce ne sono ancora quasi 700 un gesto forte da parte di Francesco il reggimento Azov e tre più discussi non è composto solo da soldati dell'esercito regolare e un gruppo paramilitare nazionalista pilastro della difesa ucraina accusato di accogliere tra le sue file anche elementi neonazisti formazione che da anni combatte nel Donbass contro i separatisti filorussi alcuni dei soldati sono stati in passato accusati anche dall'ONU per presunti crimini di guerra le due donne sono state invitate all'udienza generale non in forma privata per un saluto del Papa una stretta di mano al pontefice che a fatica si è alzato dalla sedia costretto dal ginocchio dolorante a rimanere seduto durante i saluti finali il Papa continua a invocare la pace per tutti sempre pronto ad accogliere richieste di aiuto di chi soffre soprattutto a causa della guerra un momento storico hanno raccontato le due donne commosse che hanno chiesto a Bergoglio di intercedere per i loro compagni con Putin speriamo di riuscire a salvare le vite dei soldati la situazione dell'acciaieria è terribile riferiscono Catarina e Iulia potrebbero esserci ancora civili là dentro dicono ad accompagnare le due donne Piotr Versilov artista e dissidente russo in passato vittima di un misterioso avvelenamento fu ricoverato nella stessa clinica tedesca che ha disintossicato l'exe Navalny andiamo adesso al giorno dopo il faccia faccia tra il nostro presidente del consiglio Draghi e il presidente americano Biden sapete ha accompagnato almeno nei giorni precedenti da una sorta di malumore crescente anche all'interno della stessa maggioranza per quanto Draghi doveva portare agli occhi del presidente americano Draghi che è stato piuttosto chiaro naturalmente bisogna andare di pari passi il canale diplomatico che porti almeno a un prima cessato di fuoco che non può prescindere naturalmente dal sostegno alla resistenza ucraina anche in termini concreti e quindi ci si torna sul capitolo armi e poi ci sono tutti i temi collaterali legati agli effetti del conflitto ringrazio Mario Draghi riferirà le camere sull'incontro con il presidente americano Joe Biden la prossima settimana giovedì con un'informativa e non con la formula del question time che si era inizialmente ipotizzata le parole del presidente del consiglio alla Casa Bianca sulla stessa lunghezza d'onda di quelle dei leader dei grandi dell'UE sulla necessità di arrivare alla pace al di là dello scetticismo sulla volontà di Mosca espresso dall'amministrazione statunitense trovano le reazioni positive in Italia dei più dubbiosi sull'invio delle armi all'Ucraina e sulla prospettiva dello stop all'acquisto del gas russo la Lega fa trapelare grande soddisfazione per quella che considera una correzione di rotta dopo le posizioni ultratrantiste della prima ora Draghi ha insistito sulla pace è esattamente quanto auspicato da Matteo Salvini commentano in via Bellelli come il Carroccio anche i 5 Stelle ribadiscono i loro dubbi sui sostegni militari all'Ucraina chiedono chiarezza sulle armi fornite considerano positivo il nuovo protagonismo diplomatico europeo la maggiore autonomia dagli Stati Uniti ma non intendono abbandonare gli accenti pacifisti lo ha ribadito il presidente del movimento Giuseppe Conte ieri al segretario del partito democratico Enrico Letta nelle due ore di faccia a faccia per fare il punto sullo stato del campo largo di centrosinistra ancora in cantiere e percorso da tensioni sull'Ucraina sui candidati comuni per le prossime amministrative e sull'inceneritore per i rifiuti di Roma questione su cui i pentastellati rimarcano il profilo ambientalista le divergenze le assumiamo ma abbiamo voglia di andare avanti insieme commenta il leader del PD alla fine dell'incontro ma tra i dem cresce il malumore di chi è contrario a un'alleanza con i 5 Stelle per il loro continuo distingo e aumentano i sostenitori di una nuova legge elettorale proporzionale che consentirebbe a ogni forza politica di correre in proprio a mettere d'accordo tutti o quasi è la vicenda di Vito Petrocelli il presidente della commissione estera e del senato destinatario di richieste corale di dimissioni per le sue posizioni filorusse e già scomunicato ma non ancora formalmente espulso dai 5 Stelle per sollevarlo dall'incarico si sono dimessi 20 membri della commissione su 22 tutti tranne lo stesso Petrocelli e l'ex pentastellato Emanuele Desi escamutage per azzerare l'organismo e consentire con il parere positivo e unanime della giunta per il regolamento la nomina di una nuova commissione senza Petrocelli e con un nuovo presidente che dovrebbe arrivare entro venerdì Allora dicevamo e sentivamo del riferimento anche alle tensioni legate ai candidati per quel che riguarda le prossime amministrative questo è un tema che accomuna in termini di tensioni anche l'umore del centro-destra che peraltro a livello di leader non si vede da settimane anzi da mesi difficile anche incrociare i calendari e le agende e soprattutto trovare un tema comune un punto comune da cui ripartire A un mese dal voto amministrativo fissato il 12 giugno si misurano le distanze tra gli alleati del centro-destra ultimo strappo ieri alla Camera dove è affondata la proposta sull'elezione diretta del capo dello Stato prima firmataria Giorgia Meloni complici le assenze tra i banchi alleati gli emendamenti soppressivi del centro-sinistra sono infatti passati con 236 voti contro 204 no insomma gli oltre 45 deputati di Lega e Forza Italia mancati all'appello avrebbero potuto cambiare l'esito del voto eppure la Meloni ha evitato un processo ai compagni di strada del centro-destra finiti nel mirino quando i voti sono mancati in commissione limitandosi ad incassare il sì dei partiti alla riforma e puntando il dito sul centro-sinistra difficile però che questo non incida sui rapporti interni nella coalizione dove la diffidenza regna sovrana colleghe azzurri che appoggiano il governo Draghi e il peso delle sue decisioni che mal digeriscono l'ascesa della Meloni che dall'opposizione a buon gioco nel rivendicare coerenza e mani libere gradimento che si peserà nelle prossime amministrative lo scenario di Fratelli d'Italia primo partito con l'eventuale sorpasso della Lega potrebbe far salire la voglia di proporzionale anche nell'alleato rivale Salvini o almeno ci sperano nel centro-sinistra dove si legge come un segnale il mancato istruzionismo della Lega la mini riforma costituzionale approvata ieri che abroga la base regionale per l'elezione del Senato considerato primo passo verso il proporzionale proprio da questa tentazione la Meloni mette in guardia gli alleati ma il dialogo è complicato brucia la questione Sicilia che complica anche le intese sulle imminenti amministrative Fratelli d'Italia ha puntato i piedi per la ricandidatura di Musumeci per la regione in autunno tra i dubbi sussurrati degli alleati che ieri hanno preso la forma delle parole di fuoco di Miciche luogotenente azzurro in Sicilia distanze che allontanano l'intesa nei capoluoghi al voto a giugno tra scambi di accuse reciproche e il rischio di corse separate questioni che il tavolo dei leader dovrebbe risolvere tavolo che da più di due settimane non si riesce ad apparecchiare per quel che riguarda le prime ricostruzioni sarebbe stata un'esecuzione a sangue fredda quella che ha costato la vita a una giornalista di Al Jazeera era una dei volti più noti della catena televisiva del Golfo si trovava in un campo profughi a Genin stava seguendo gli scontri tra i miliziani palestinesi e l'esercito israeliano di cui anche il rimpallo di responsabilità e le versioni totalmente opposte sull'accaduto sul quale verrà aperta un'inchiesta l'ultima mail inviata è stata alle 6 e 13 questa mattina i militari israeliani hanno circondato una casa nel quartiere di Jabria nel campo profughi di Genin sto andando lì vi riferisco appena la situazione diventa chiara poco dopo Sharina Buakle giornalista di Al Jazeera è stata uccisa con un colpo in pieno volto apparentemente sparato da un cecchino e questa l'accusa che l'emittente del Qatar il governo del Qatar e l'autorità nazionale palestinese fanno ad Israele in base alle riprese fatte dalle nostre telecamere Sharina Buakle è stata assassinata a sangue freddo dalle forze israeliane di occupazione commentata a Mer al-Missal uno degli anchorman di Al Jazeera mentre era chiaramente riconoscibile come giornalista dalla pettorina che indossava le immagini sono queste troppo cruente per essere mostrate nella loro completezza secondo la presidenza palestinese il governo israeliano è pienamente responsabile del crimine e prendere di mire i giornalisti per oscurare la verità rientra nella politica di occupazione il presidente Abu Mazen accusa Israele senza prove solide è stata la risposta del premier israeliano Naftali Bennett sulla base dei dati a nostra disposizione c'è una probabilità da non scartare esistono immagini di miliziani palestinesi che affermano abbiamo colpito un soldato ed ora giace a terra siccome nessun militare israeliano risulta ferito potrebbe trattarsi della giornalista Bennett ha anche offerto ai palestinesi di svolgere subito un'autopsia ed un'indagine congiunta ma fino ad ora osservato abbiamo ricevuto un rifiuto l'esercito sta comunque facendo i suoi accertamenti la richiesta di arrivare alla verità è giunta anche dall'ambasciatore americano Tom Neiden Sharina Buahle aveva infatti doppia nazionalità palestinese ed americana la giornalista era una vera e propria staglia a Jazeera non esiste palestinese dicono dalla tv Katariota che non conoscesse il suo volto tanto che i funerali domani partiranno dal palazzo presidenziale di Ramallah con Abu Mazen in prima fila e da Ramallah questa mattina c'è anche un secondo morto Taher Khalil Muslet un ragazzo palestinese di 18 anni colpito dai militari israeliani inoltre appena fuori dal campo profughi di Jenin è stato ferito anche un secondo giornalista Alissa Modi del Network Al-Quds raggiunto da un proiettile alla schiena le sue condizioni non sono gravi torniamo adesso a parlare del Covid per quel che sta cambiando sappiamo che viaggiamo anche se a diverse velocità verso un'estate con meno restrizioni forse un'estate diversa dalle ultime due per quel che riguarda il trasporto aereo ci sono novità che scatteranno da lunedì prossimo cioè non ci sarà più l'obbligo di mascherina da indossare all'interno degli aeroporti anche per prendere un aereo a stabilire queste nuove enorme raccomandazioni sono arrivate dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sono raccomandazioni arrivate alla luce dei livelli di vaccinazione raggiunti dell'immunità acquisita naturalmente da chi ha contratto il Covid-19 e dalla revoca delle restrizioni già in diversi paesi le compagnie aeree potranno comunque applicare deroghe in base alle regole in vigore negli stati di partenza e di arrivo e ai passeggeri fragili e vulnerabili è consigliato naturalmente continuare a indossarle adesso ancora una volta riavvolgiamo il nastro di quel che è successo nell'ultimo weekend a Rimini l'adunata il raduno degli alpini migliaia di persone che a quanto pare prima dalle segnalazioni poi dalle testimonianze raccolte via social e adesso anche dalle prime denunce avrebbero messo nel mirino con diverse modalità e molestie le donne e ci sono stati toni giustificazionisti che sono stati stroncati già nella giornata di ieri anche dal ministro Guerini ma adesso si apre una nuova fase una ragazza di 26 anni è andata con un'amica e il suo avvocato alla stazione dei carabinieri di Rimini e ha denunciato le molestie ricevute da alcuni alpini durante il raduno una denuncia che al momento è contro i gnoti la donna è riuscita a divincolarsi e scappare dopo essere stata strattonata presa per un braccio e insultata con frasi a sfondo sessuale la sua denuncia non sarà l'unica perché almeno altre tre donne con l'aiuto dell'associazione non una di meno stanno valutando di rivolgersi alle autorità e sono già state raccolte circa 150 segnalazioni alcune anonime tra molestie e catcalling è diventato un caso anche politico quello della donata degli alpini a Rimini dove per tre giorni hanno sfilato circa 400.000 penne nere molte donne che semplicemente passeggiavano o che stavano lavorando in bar o alberghi della cittadina romagnola hanno raccontato anche via social di essere state vittime di molestie verbali o fisiche non è la prima volta che gli alpini vengono accusati di comportamenti scorretti durante i loro raduni il presidente dell'associazione nazionale alpina in un video messaggio sottolinea di aver dato agli iscritti un codice di comportamento abbandona l'ambiguo discorso sulla presenza di infiltrati col cappello e ribadisce chiediamo alle autorità di fare chiarezza e di informarci noi puniremo duramente i responsabili il ministro della difesa Guerini ha parlato di comportamenti gravissimi oggi anche la ministra per la famiglia Bonetti ha chiesto che siano accertate le responsabilità bisogna far sì ha dichiarato che quella subcultura di prevaricazione che è il terreno più fertile della violenza e dell'abuso sia definitivamente rimossa dal nostro paese sarà la procura di Rimini avviare un'inchiesta nel ministero della difesa nella magistratura militare ha avviato indagini interne perché quelli che partecipano alla giunata sono ex alpini l'associazione non una di meno impegnata da vicino in questa vicenda si scaglia contro chi minimizza sull'accaduto dire a ragazzine anche minorenni si legge che dovevano denunciare subito a presidi di polizia presenti non è solo ridicolo ma emblematico di come un problema sociale culturale quello della violenza venga relegato solo sul piano formale per la cronaca c'è stato un grave incidente stradale stamattina alle 9.45 sull'autostrada 4 poco prima del casello di Arluno vicino a Milano uno scontro tra un furgone e un auto sono morte quattro persone secondo una prima ricostruzione il furgone ha tamponato l'auto sul rettilineo le vittime sono pakistane avevano tra i 30 e i 35 anni un altro uomo è grave mentre l'autista del furgone è stato accompagnato in ospedale in codice verde il traffico dopo una prima iniziale doppia chiusura ad essere regolare in direzione Torino aperta una sola corsia invece in direzione Milano sempre per la cronaca adesso andiamo a Padova dove non vi raccontiamo un femminicidio perché la donna vittima di un accoltellamento si è salvata sarebbe stato un uomo che è già in carcere in attesa di interrogatorio un 51enne che aveva già colpito diversi anni fa è in attesa di essere interrogato nel carcere di Padova Stefano Fattorelli l'uomo di 51 anni accusato di aver accoltellato la compagna Sandra di 52 anni nell'appartamento dove vivevano in città nel corso dell'ennesima lite l'uomo l'avrebbe colpita alla schiena con una coltellata lei è stata operata nella notte e non è in pericolo di vita ieri sera vicini allarmati dalle urla hanno chiamato il 112 che ha soccorso la donna Fattorelli intanto si era allontanato ma è stato raggiunto dai carabinieri ha cerchiato non ha opposto resistenza ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato le indagini sono in corso la relazione tra i due era ormai arrivata alla fine una realtà che lui non accettava ma ecco che riemergono dal passato di quest'uomo originario di Verona altre relazioni difficili una con un esito tragico nel 1999 uccise la sua ex convivente Vilma Marchi con 33 coltellate lui allora aveva 28 anni lei 50 fu condannato a 15 anni di carcere per omicidio riconosciuto seminfermo di mente quell'anno era stato denunciato cinque volte dalla donna per i maltrattamenti era stato rinviato a giudizio ma non c'erano restrizioni o provvedimenti di allontanamento non esisteva ancora la legge sullo stalking nel 2007 uscì di prigione aveva goduto dei benefici senza alcuna misura di sicurezza non essendo più ritenuto pericoloso per remissione completa del disturbo di personalità ma una nuova relazione con una donna conosciuta in carcere una psicologa ha esiti drammatici anche in questo caso lui non accetta la fine della relazione la minaccia la segue ovunque e alla fine lei lo denuncia nel 2012 il GUP di Padova condanna Fattorelli a due anni per maltrattamenti fino a ieri sera Fattorelli era un uomo libero dal suo profilo sui social risulta impiegato presso un supermercato alla voce interessi scrive solo le donne e l'ultima che ha conosciuto è viva per miracolo prima di fermarci per la pubblicità la notizia della morte di Paul Anthony Ginsburg lo storico inglese naturalizzato italiano nato a Londra nel 1945 già professore all'università di Cambridge dal 1992 aveva insegnato storia dell'Europa contemporanea all'università degli studi di Firenze si è occupato a lungo della storia italiana indagando l'intreccio tra i grandi eventi le istituzioni e i destini individuali l'ultimo incarico come docente universitario era stato proprio a Firenze città dove viveva noto anche come uno degli animatori dei girotondi del 2002 era presidente e merito di libertà e giustizia prima di fermarci ancora un passaggio con la sottoscrizione naturalmente ancora potete fare la differenza in termini di aiuti per la popolazione ucraina e un aiuto subito in collaborazione con il Corriere della Sera queste tutte le indicazioni per dare un contributo alle associazioni che si occupano di assistenza ai rifugiati ucraini in primis la Croce Rossa ci fermiamo adesso la pagina pubblicitaria e poi quella sportiva tra poco di nuovo insieme seconda parte del telegiornale dunque cominciamo dal calcio il calcio tutto in bilico quello di questa stagione a 180 minuti dalla fine del campionato tutti i verdetti da scrivere nel frattempo però c'è da assegnare un trofeo alla Coppa Italia lo si fa questa sera con un classico del nostro calcio Juventus o Inter Juventus che da 10 stagioni a questa parte porta a casa almeno un trofeo Inter che vuole riconfermare la superiorità stagionale Simone Inzaghi a caccia del secondo trofeo del 2022 contro Allegri che non vuole terminare la stagione a zero titoli la finale di Coppa Italia peserà nel bilancio dei due allenatori che in un olimpico strapieno si affronteranno per la quarta volta da ottobre a inizio anno il tecnico dell'Inter strappò alla Juventus la Supercoppa italiana e questa sera cercherà di battere di nuovo i bianconeri per rituffarsi poi con maggiore carica nello sprint scudetto con il Milan che potrebbe valere un piccolo triplete se vuoi vincere una finale devi avere fame già questa Coppa insomma ti fa venire fame fa venire fame i miei giocatori a Roma il tecnico nerazzurro avrà tutti a disposizione tranne l'infortunato Vesino Pastoni stringe i denti ma in caso di provino negativo è pronto D'Ambrosio l'altro dubbio è sulla destra Dunfris è favorito su Darmian mentre davanti Dzeko che non segna da un mese ha vinto il ballottaggio con Correa per fare compagnia a Lautaro Martinez l'argentino ha il piede caldissimo 11 gol nelle ultime 11 partite l'Inter non mette in bacheca la Coppa Italia dal 2011 ultimo anno nel quale la Juventus campione in carica ha chiuso la stagione senza neppure un titolo all'attivo in passato per noi questo trofeo è stata la ciliegina stavolta sarebbe la torta scherza Allegri che punta il record assoluto di 5 successi da allenatore nella manifestazione tricolore e a vendicare i due KO stagionali contro i Nerazzurri però nelle partite precedenti abbiamo sempre fatto delle buone partite ci vorrà pazienza ci vorrà lucidità e lettura dei momenti della partita tre i titolari sicuri Perini in porta Chiellini al passo d'addio con la Juventus e Di Bala diviso tra il presente bianconero e un probabile futuro proprio all'Inter l'argentino giocherà più vicino a Vlaovic con Quadrado e Bernardeschi sulle fasce per attenuare la solitudine dell'attaccante serbo senza gol da quattro gare consecutive un inedito per lui in questa stagione Poi c'è il tennis la settimana degli internazionali che ci riporta a Roma dove ieri ha fatto il suo esordio vincendo ed è una notizia Diokovic per il resto l'attesa è per la sfida del centrale di questa sera una sfida tra due generazioni una sfida in casa tutta azzurra che però non ha precedenti Fognini la certezza è che avremo un italiano al terzo turno Non sono soltanto i 14 anni di età separarli ma soprattutto diversi stili di vita e di atteggiamenti in campo per questa prima in assoluto da avversari Yannick Sinner e Fabio Fognini dovranno attendere sino alle 19 di questa sera per una sfida che farà registrare il tutto esaurito sul centrale del foro italico entrambi al primo turno si sono sbarzati facilmente dei rispettivi avversari lunedì Fognini ha regolato in due set il tedesco team nonostante gli acciacchi di una carriera lunga e sfibrante che lo ha portato a 35 anni a una nuova vita professionale sempre assieme alla moglie Flavia Pennetta e alle piccole Flaminia e Fara tifose numero uno di papà Fabio il quale promette che sino a quando la voglia di arrabbiarsi lo sosterrà lui sarà in campo a lottare lontano anni luce da Fognini il suo avversario Yannick Sinner che in breve tempo ha saputo bruciare le tappe imponendosi sulla ribalta internazionale ieri nel suo esordio al foro italico l'alto atesino si è facilmente sbarazzato dello spagnolo Pedro Martinez bombardandolo in tutti gli angoli del campo per poi concludere con un doppio 6-4 questo derby tutto italiano con Fognini lo vede senza dubbio favorito consapevole però che quella di stasera sul centrale più che una battaglia di colpi sarà per Sinner una guerra di nervi contro un grande esperto in materia sempre ieri ha fatto il suo attesissimo esordio Novak Djokovic testa di serie numero uno del torneo nonché idolo del pubblico di Roma città che da sempre considera come la sua seconda casa il serbo ha impiegato 90 minuti e due soli set per sbarazzarsi del russo Karacev capace di batterlo lo scorso anno in una interminabile semifinale a Belgrado ma a corto di risultati in questa stagione primo mattone verso la ricerca del sesto successo a questi internazionali con cui contrastare il dominio assoluto di Rafa Nadal che attualmente in campo contro lo statunitense Isner andrà a caccia dell'undicesimo sigillo personale record straordinario e difficilmente battibile Nadal che aggiorniamo ha vinto primo set e sta dominando anche il secondo 4-1 in questo momento il ciclismo prima di chiudere nella prima tappa italiana dopo il trittico in Ungheria il Giro d'Italia ha portato la carovana su e pendici dell'Etna con distacchi importanti l'idolo di casa il siciliano Nibali ha fatto registrare un ritardo di quasi 5 minuti giornata negativa per l'intera squadra della Stana con il capitano Lopez costretto al ritiro per problemi muscolari alla gamba sinistra 9 i minuti accusati dall'altro grande favorito Tom Dumoulin mentre il leader della corsa Van der Poel ne ha accusati addirittura 22 la vittoria di tappa è andata al tedesco Kamna il quale nella volata finale si è imposto sullo spagnolo Juan Pedro Lopez che ha sbagliato traiettori all'ultima curva consolandosi però con la conquista della maglia rosa oggi la quinta frazione riservata ai velocisti da Catania a Messina per un totale di 174 km ci fermiamo vi ricordo i prossimi appuntamenti innanzitutto Tiziana Panella con Tagadà e vi ricordo poi ancora lo speciale alle 17 con il direttore Enrico Mentana e poi il telegiornale delle 20 noi se volete siamo qui domani alle 13.30 come sempre buona giornata e vi ricordo